Se pensi che essere vegani significhi mangiare qualsiasi cibo triste, scondito, insapore, insomma per nulla pagante, sono qui per cercare di farti cambiare idea. Ciao a tutti, io sono Marta in ArtMM Vegan Cuisine e voi siete benvenuti sul mio canale. Che siete onnivori, che siete vegani, che siete vegetariani, non importa, il mio canale è aperto a tutti quanti e sono qui per far cambiare idea in merito a quella che è l'alimentazione vegetale. Troppe volte infatti mi è capitato di sentire tantissime persone, magari anche come me vegane, lamentarsi del fatto che andando a mangiare fuori, spesso e volentieri i ristoranti non offrano delle alternative appaganti e gradevoli e che tante volte si sentono dire che l'unica alternativa vegan siano le verdure bollite oppure l'insalata tristissima. Il che mi dispiace veramente tantissimo, mi fa proprio male al cuore se vogliamo, diciamolo anzi, perché penso che sia una cosa alquanto riduttiva e per niente rappresentativa di quella che è l'alimentazione vegetale. E quindi mi sono detta, ma perché non fare tutta una serie di video dedicata magari anche agli aperitivi che si possono realizzare in casa? E perché no, magari dare anche spunto a chi ha un locale effettivamente, ma non perché io voglia mettermi su un piedistallo e insegnare qualcosa a qualcuno, bensì perché magari tante volte non si è informati o comunque non ci si rifletta abbastanza e si ha paura di sbagliare cadendo poi appunto nel banale dell'insalata scondita. Per cui oggi il mio video comincia appunto con la serie degli aperitivi dedicato alla regina indiscussa delle apericene qui in Sicilia quantomeno, che è la caponata siciliana e anche la peperonata, patrimonio dell'umanità. Cominciamo quindi con la ricetta della caponata siciliana che nasce come piatto vegan al 100%, per cui davvero parlo con chi dovesse avere dei locali. Qualora dovesse arrivarvi qualche vegano disagiato, non preoccupatevi, mantenete la calma e rimpinzatelo di caponata, che sicuramente vi ringrazierà, ve lo posso assicurare. Non so bene se qualcuno di voi conosce le origini di questo piatto, ma io penso che sia fondamentale conoscere la storia che c'è dietro ogni ricetta per poterla comprendere e apprezzare al meglio. Per quanto riguarda questa in particolare, sembra che la ricetta tradizionale prevedesse la presenza dell'ampuga, detta anche capone, che veniva accompagnata con questa salsa agrodolce molto buona. Ovviamente però il popolo che non poteva sostenere dei costi così elevati, perché prima carne e pesce, come sappiamo, erano destinati all'alta borghesia o comunque alla nobiltà addirittura, alla faccia di chi dice che mangiare vegan sia da fighettini e sia costoso. Si inventò una ricetta più povera a base di melanzane, cotte nella stessa salsa agrodolce e quindi ecco come è in acqua questo piatto buonissimo che oggi vi propongo. Ci tengo a dire già da subito che la mia è una versione un po' rivisitata della caponata tradizionale. In questo caso io ho voluto fare una versione un pochino più semplificata e ho aggiunto anche delle verdure che non sarebbero previste, ma che secondo me ci stanno davvero molto bene. C'è anche da dire che comunque dipende dove si va, in che zona della Sicilia si va, sono aggiunte appunto degli ortaggi che magari in altre zone non verrebbero aggiunti di norma. In ogni caso vi lascio la ricetta e spero che vi piaccia. Cominciamo con la fettare a listarelle, una cipolla, io vi consiglio quella rossa di tropea e tagliamo a pezzetti anche una costa di sedano. Arriviamo dunque alle protagoniste della nostra ricetta, ossia le melanzane. Ne utilizzate due piccoline insieme a una carota e una zucchina genovese, sebbene da tradizione non siano previste. Vi mostro brevemente tutte le verdure che ho utilizzato per questa caponata, secondo me avevano dei colori troppo belli, che mettono tanta allegria per non essere mostrati. Vi suggerisco anche di aggiungere mezzo peperone rosso o giallo, se volete, perché ci sta veramente molto bene. Una cosa che faccio sempre quando utilizzo le melanzane è quella di farle spurgare, spargendole con del sale e mettendole in acqua con un peso sopra. In questo modo il sale per osmosi richiamerà il liquido di vegetazione e sarà meno amara. Adesso passiamo al procedimento vero e proprio, quindi ci spostiamo ai fornelli, facciamo scaldare dell'olio, mi raccomando siate piuttosto generosi, e facciamo soffriggere la cipolla, il sedano e la carota. Mescoliamo per bene e lasciamo che le verdure appassiscano, mi raccomando coprite con coperchio. Appena le verdure avranno preso colore, possiamo anche versare le melanzane sciacquate dall'acqua di ammollo e anche la zucchina. Saliamo a piacere e mescoliamo, dopodiché chiudiamo con coperchio e lasciamo cucinare le verdure. La ricetta tradizionale prevederebbe la frittura delle melanzane a parte, ma io preferisco questo metodo perché trovo che il tutto si insaporisca meglio, quindi una versione più sbrigativa, insomma. Nel mentre che le verdure cuociono, prepariamo la salsa agrodolce caratteristica di questo piatto con concentrato di pomodoro, aceto di vino e zucchero semolato. Mescoliamo per bene il tutto, aiutandoci con una forchetta, aggiungiamo anche mezzo cucchiaino di sale e poi diluiamo con mezzo picchiere d'acqua. Non appena le verdure avranno cotto, possiamo rimuovere il coperchio e alzare la fiamma, facendole abbrustolire. Dovrà formarsi una sorta di crosticina, quasi come se le verdure fossero fritte. Aggiungiamo anche i capperi dissalati e le olive, in questo caso ho scelto quelle nere denocciolate. Ultima ma non ultima, la salsa agrodolce che darà un gusto inconfondibile alla nostra caponata. Alziamo la fiamma per far evaporare l'alcol e mescoliamo fino a quando la salsa si sarà ristretta. Come tocco finale ho voluto aggiungere dei pinoli, ma vi assicuro che stanno benissimo anche delle mandorle tritate al coltello. Un tocco di menta fresca in superficie e il piatto è pronto per essere gustato, io però vi consiglio di degustare la caponata il giorno dopo, magari dopo averla fatta riposare in frigorifero. Da fredda è molto più buona. Passiamo ora alla ricetta della peperonata, che è un contorno delizioso, soprattutto poi in questo periodo, in cui di peperoni ce ne sono veramente tanti. Il procedimento è molto simile a quello della caponata, tant'è che le definirei strettamente imparentate, quindi anche in questo caso taglio la cipolla di tropea all'isterelle e lo stesso faccio con un peperone rosso e uno giallo. Una generosa dose di olio in padella, versiamo anche due spicchi d'aglio e la cipolla precedentemente affettata. Lasciamo appassire per qualche minuto coperta con coperchio e poi possiamo anche aggiungere i peperoni. Aggiustiamo di sale secondo il nostro gusto, diamo una mescolata e poi nuovamente copriamo con coperchio e facciamo cuocere. Non appena i peperoni risulteranno teneri, possiamo rimuovere gli spicchi d'aglio e anche in questo caso, sebbene non siano previsti dalla ricetta tradizionale della peperonata, io ho voluto aggiungere comunque olive e capperi, che danno un sapore molto più deciso. Ovviamente potete anche ometterli. Infine, andrebbe aggiunta della passata di pomodoro, ma io ho voluto dare un tocco personale, aggiungendo anche in questo caso la salsa agrodolce, che vi giuro sta benissimo, e per una nota più piccante, qualche goccia di tabasco. Un'ultima mescolata a fiamma viva per fare evaporare l'alcol dell'aceto e poi, anche in questo caso, facciamo raffreddare per bene la peperonata e la possiamo gustare. Volendo potete anche aggiungere qualche fogliolina di menta oppure di basilico per dare un gusto in più. Il video termina qui, io spero tanto che vi sia piaciuto, vi sia stato utile e vi abbia fatto compagnia. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate della caponata e della peperonata, se vi piace, se l'avete mai provata e se vi andrebbe di trovarla appunto durante un aperitivo. Vi ricordo anche, qualora non vi siete ancora iscritti, di cliccare qui sotto sul pulsante iscriviti e attivare la campanella per non perdervi le prossime novità. Lasciatemi un bel mi piace se il video vi è piaciuto e per supportare il canale. E vi invito anche a seguirmi su mio account social Instagram, Facebook e TikTok. Qualora doveste rifare la ricetta, mi raccomando, mi farebbe tantissimo piacere se mi taggaste inserendo l'hashtag MMVeganCuisine. E niente, noi ci salutiamo e ci vediamo la prossima volta con un'altra videoricetta.